Una crescita significativa. Il numero degli interventi chirurgici eseguiti negli ultimi 100 giorni all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II è aumentato del 10% rispetto all'identico periodo del 2022, dati emblematici che confermano l'intensa attività della struttura sanitaria oncologica nella quale sono state effettuate, fra il 1 giugno e il 18 agosto di quest'anno, 521 operazioni. Proiettando l'andamento a fine mese la cifra salirebbe a 567, portando il totale a 44 in più sullo stesso arco temporale dell'anno scorso. Non andiamo in vacanza come non va in vacanza neanche la patologia oncologica, quindi abbiamo deciso di investire con il nostro personale, con le nostre risorse, sull'attività operatoria e sulle attività ambulatoriali. Il trend che è dimostrato dal numero degli interventi chirurgici, peraltro anche ad alta complessità chirurgica, penso alla chirurgia toracica, alla ginecologia o alla chirurgia generale, dimostrano che la risposta dei pazienti all'offerta sanitaria sempre in aumento è stata molto forte e l'adesione ha dimostrato che anche i pazienti hanno gradito molto la scelta di investire sulle sale operatorie e sulle ambulatorie. Chirurgia toracica si è distinta con 119 interventi, seguita da chirurgia senologica con 105, chirurgia plastica con 91, chirurgia ginecologica con 75, chirurgia generale con 59, chirurgia urologica con 51 e chirurgia otorinolaringoiatrica con 21, numeri dietro ai quali naturalmente si cela l'enorme lavoro di un team multidisciplinare di esperti che comprende anche il personale dell'unità operativa di terapia intensiva guidato dal dottor Giuseppe Carravetta. L'istituto ha conquistato la sua centralità nella rete oncologica pugliese ma soprattutto cominciamo anche a vedere i numeri da fuori regione, quindi abbiamo cominciato ad abbattere la mobilità passiva e anche ad avanzare sulla mobilità attiva che sarebbe quel fenomeno di recupero di credibilità della nostra regione rispetto alle altre regioni. Migliorano notevolmente anche le statistiche relative alle prestazioni ambulatoriali ovvero visite, esami e terapie. Dalle 729.000 del 2019 passando per le 918.000 del 2022, per il 2023 è previsto il superamento della soglia di un milione che porterebbe ad un balzo del 40% in più in confronto al periodo prepandemico. Contiamo sempre sul fatto che la regione ci dia la fiducia già dimostrata in questi ultimi mesi con l'assegnazione di ulteriore personale perché è evidente che solo facendo un investimento mirato sul personale, sulle tecnologie, sulle strutture, poi le risposte sono quelle che noi stiamo apprezzando con i numeri alla mano.